A sesso di Stadace la soddisfa quest'ulteriore risposta dello Stato? Assolutamente, il messaggio che oggi si è dato è proprio quello di una presenza importante sul territorio e quindi questo non potrà che portare buoni frutti. Anche la presenza del Ministro è stata un segnale molto positivo. Io veramente non dimenticherò mai le parole del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri che chiaramente oltre a segnalare l'importanza della presenza dello Stato sul territorio ha anche fatto riferimento a Gote parlando proprio di rispetto, cioè dell'importanza del rispetto per le persone, per il territorio e naturalmente per le regole. Ecco, questo è il messaggio che porterò sempre nel cuore oggi perché è quello che ci spronerà sicuramente ad agire sempre sulla stessa linea delle istituzioni e della legalità.